Il tronista lascia un po' tutti senza parole e il pubblico si ribella, mentre De Filippi tira in causa anche Aurora. Luca Salatino a Uomini e Donne non è di certo uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico di Canale 5. Dopo la delusione ricevuta durante la scelta di Roberta Giusti, l'ex corteggiatore romano ha accettato di sedere sul trono e iniziare così un nuovo percorso da tronista. Sin dall'inizio, alla sua corte vi sono Soraya Allame e Lilli Pugliese. Il comportamento di Luca tenuto con la prima non sta piacendo per nulla ai telespettatori e sembra neanche a Maria De Filippi. Facendo il punto della situazione, Soraya ha preso una decisione qualche settimana fa, non baciare più Luca. Il motivo? Per ben due settimane, si è sentita messa da parte, in quanto Salatino ha dato più priorità ad Aurora. Infatti, molti sono convinti che sarebbe stata proprio quest'ultima la sua scelta. La nuova arrivata è durata ben poco alla corte del tronista. Dopo avergli negato un bacio, Aurora si è ritrovata di fronte alla dura reazione del tronista e così ha deciso di lasciare il programma. Ed ecco che Luca è tornato a uscire più assiduamente con Soraya e Lilli. La prima, però, non riesce ancora a dimenticare quanto accaduto precedentemente, al contrario della sua collega. Pertanto, ha deciso di non baciarlo in una delle loro recenti esterne. Questa sua scelta non è piaciuta per nulla a Luca, che ha interpretato il tutto come un suo mancato interesse. Purtroppo, il tronista non riesce proprio a capire cosa sta davvero provando Soraya. Nella puntata di oggi di U&D, Maria manda in onda la loro esterna. È evidente a tutti che la ragazza sta cercando di riportare la serenità nel loro rapporto, tranne a Luca.